Sarà un anno speciale anche per i giovani, il Giubileo straordinario della Misericordia e la Diocesi di Verona propone tre giorni di appuntamenti per invitare quanti sono alle periferie, così come i giovani che credono a convertire il cuore a farsi compagni di viaggio, i buoni samaritani, di altri coetanei. Il Giubileo della Misericordia è un'opportunità, un'opportunità per tutti. Come può arrivare ai giovani? È una bella domanda. Quello che noi stiamo e desideriamo fare è che questo incontro con il Signore Gesù, con il Signore Risorto, arrivi a tutti. E il Papa ci parla di andare alle periferie, alle persone lontane. Però è chiaro che noi dobbiamo rinnovare questo slancio missionario a tutti i nostri giovani, anche quelli che vengono in parrocchia, che vengono in gruppi, ma non a toccare le periferie solo dei lontani, ma anche le loro, perché loro possano diventare dei testimoni, dei testimoni di misericordia. Si parla molto di una misericordia ricevuta e una misericordia donata. Quante situazioni difficili tutti i nostri giovani affrontano. Non significa che ogni giovane è lontano, ma ognuno di noi ha una parte di lontananza, magari una ferita, qualcosa che fa male. Ed è proprio lì che noi vogliamo arrivare, perché il Signore Gesù guarisce tutti, guarisce tutto anche delle persone. Il nostro desiderio è che ciascuno di noi possa veramente entrare e andare a rinnovare ogni momento, ogni spazio, ogni luogo di ogni persona. Il Centro di Pastorale Adolescente e Giovani proporrà numerosi incontri. Venerdì mattina in tre scuole veronesi. Nel pomeriggio il rosario con le suore di clausura e un passaggio in carcere a Montorio. Alle 20.45, dal Tempio Votivo, insieme a Giovani e Riconciliazione, la preghiera e la veglia notturna con la presentazione della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia, un appuntamento che sarà trasmesso da Telepace in diretta. Sabato tappa in ospedale, nel pomeriggio tra le vie della città. La sera, a Sant'Anastasia, la preghiera notturna con le sentinelle del mattino. Abbiamo scelto la chiesa del Tempio Votivo, che come sappiamo è un luogo di viaggio, è la chiesa davanti alla stazione, è un luogo simbolico, è anche un luogo, come sappiamo, a volte anche di povertà. Allora proprio lì, per noi, voleva essere un segno che il Signore Gesù e la sua misericordia arriva in quello stato di vita dei nostri giovani, che è quello del viaggio, dell'andare, del camminare, del scegliere, ma anche dei luoghi, della loro magari situazioni non facili. Allora abbiamo voluto unire in queste tre giorni tante cose. Perché? Perché il nostro desiderio era quello di farlo diventare un inizio, anche forte, possiamo dire una parola, un inizio potente. Abbiamo l'opportunità di avere qui in Diocesi la Croce di San Damiano e la Madonna di Loreto, le coppie ufficiali che stanno girando tutta la Diocesi, tutte le Diocesi d'Italia. Ed è bello sapere che sono qui presenti a Verona. Allora all'interno di questi due giorni vorremmo proprio portare questa croce nei luoghi anche significativi, dal carcere alle scuole, a Piazza Bra, a Via Mazzini.